L'Inter prova a riavvicinarsi al Milan, questo è il primo dei due recuperi che dovrà giocare la squadra di Leonardo per portarsi a quei tre punti potenziali di distanza dai primi della classe. Uno contro uno di Eto'o. Rientra Eto'o. Nessuno che si muova. Poi Milito, Milito ancora Eto'o. 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 1-0. Sempre lui, sempre Samuel Eto'o. Stavo guardando Leonardo che diceva la squadra di salire, erano rimasti davanti solamente i tre giocatori d'attacco, ma è stato sufficiente. Eto'o che riparte. Uno contro uno di Eto'o. Stop e go su Ceccarelli. Dentro pallone Pandev. Diego Milito. 2-0. Eto'o. E' troppo bravo nell'uno contro uno, non riescono mai a tenerlo. E poi gli inserimenti del trequartista, in questo caso Pandev è fatto molto bene, ma quando hai un giocatore come tu... Maicon. Pronto al traversone. E' un tiro in porta! Che termina fuori non di molto. Menes si gira, vede l'appoggio a destra, trova Ceccarelli. Ceccarelli va al traversone per Bogdani che la mette giù e si gira! Erion! Bogdani! 2-1. Gran gol di Bogdani. Nessuno ha accorciato su Bogdani che ha avuto tutto il tempo di stoppare questo pallone di petto e girarsi dentro l'area di rigore. Jimenez. Ancora Ceccarelli alle spalle di tutti. Emanuele! Ceccarelli! 2-2. Non era facile tenere questa palla bassa. Secondo me l'inserimento è coi tempi giusti. Secondo me non c'è fuorigioco. Maicon. Ha tagliato Maicon. Ecco il pallone per Maicon. Fuori per Kibu. Esterno sinistro. Salvataggio sulla linea. Maicon. Arriva il traversone per Cristian! Kibu! 3-2. Si è inserito anche lui. Ha bollato la propria posizione. L'ho detto prima. Attaccano tutti. Adesso rientra. Eccolo. Eccolo. Destro dietro! Alto secondo attraverso. Va comunque al cross cambiasso. Basso. Poi subentra. Ancora cambiasso. La mette dentro. Deviata. Panner. Etole! Ha quasi spaccato la porta. Jimenez fa tutto il campo. Jimenez con il destro! Giaccherini! Fuorigioco di Giaccherini. Secondo giallo e rosso per Giaccherini. Va via Cioelopi. In area di rigore Cioelopi ancora resiste. E Obi dentro! E Panner non riesce a metterla. Ceccarelli la mette giù. Non riesce a calciare. Apre per Caserta. Posizione regolare. Il dribbling di Caserta. L'altro traversone. Bucato da tutti. Fallo di mano di Kibu. E poi Budan! Ha una palla golla al 35esimo. Il pallone per Parola che fa passare. Triangolo per dentro. Ancora il pallone per Budan. Budan! L'Agui romanda tutti sotto la doccia con un po' di affanno. Inter batte Cisena 3-2. Si ricomincia a sentire il profumo di Scudetto. Sì, una squadra come l'Inter deve pensare sempre a conquistare questi tre guardi. Però sappiamo che è ancora difficile. Perché se punti dal Milan non è facile recuperare. Grazie a tutti.